ciao ragazze nuovo video oggi con gli occhiali perché facciamo anzi farò la maestrina sto scherzando allora mi tolgo gli occhiali ovviamente vi saluto nel modo normale stavamo scherzando volevo farmi due risate con voi oggi nuovo video però non è una recensione non è un arrivo ma bensì alcune domande che mi sono state fatte su in privato in pagina molte di voi mi avevano chiesto per esempio quale fondotinta io utilizzassi perché mi lamento sempre di avere comunque una pelle grassa e oggi ovviamente vi parlerò di mie fondotinta minerali io uso sia minerale che in crema ultimamente sto usando anche quelli mousse e mi trovo molto bene però bisogna fare attenzione alla texture ma soprattutto alla composizione perché se è troppo grassa poi tende a essere eccessivo di solito i fondotinta minerali per le pelle grasse sono un toccasana non è vero che non coprono perché io che comunque ho delle macchie qua penso che si vedano dovute alla all'acne giovanile una volta quando ero giovane comunque mi vengono coperte perché tra fondotinta correttore oggi per esempio è una bb cream quindi non è che diciamo non è vero che non vengono coperte anzi i fondotinta minerali possono essere modulabili quindi in che senso cioè modulabili vuol dire vuol dire fare più passate una passata totale magari due passate sulle macchie e quindi diciamo essere utilizzati magari con colori differenti su alcune zone del viso oggi quindi vi spiegherò un po' coi miei preferiti del momento allora quello che mi piace non mi piace ma in realtà io lo sto usando più come cipria perché mi è stato regalato e questo della giafra non so se si vede perché si è consumato faccio vedere qua si è consumato il la scritta argentata questo è il colore non c'è neanche scritto qua comunque penso che sia un colore medio sì con fattore di protezione 15 allora questo è un fondotinta minerale illuminante però il problema di questo fondotinta è che non si uniforma bene con il viso quindi si tende a fare delle ghiacce dopo un po' di tempo come è successo per un altro fondotinta in cui io ve ne avevo parlato in un altro video e il fondotinta che ora non ho qui ma ho lasciato di là è quello della Lauren Brook allora la Lauren Brook ha una cartella colori infinita ed è perfetto perché l'olivastro come me perché ci sono anche i toni un po' più gialli perché voi sapete che più o meno l'incarnato è costituito o su base rosata o su base gialla o un mix di questi due una base gialla e trovare fondotinta è sempre un po' più difficile rispetto alla base rosata su Lauren Brook invece abbiamo tutti quei colori il problema di quel fondotinta con questo è che non si uniformano all'incarnato e quindi dopo un po' si inizia a vedere le pieghette date insieme tra l'eccesso di sebo e il fondotinta poi quello che mi piace che io sto usando da una vita è questo della Kiko è il wet and dry, si è lui e si può usare sia asciutto che bagnato, io non lo uso bagnato, lo uso sempre asciutto ed è un fondotinta minerale compatto perché poi oltre a quelli in polvere libera ci sono anche quelli compatti questo va bene anche quando sono un po' più colorita, un po' più abbronzata e mi trovo molto bene questo appartiene alla linea permanente, quindi se andate in un negozio Kiko lo trovate sempre poi sempre della Kiko io uso anche questo qua, in polvere libera questo qua è lo 08, è un po' più neutro eccolo qua faccio vedere, si è un colore un po' più neutro, io mi trovo benissimo con entrambi danno una buona colorazione, coprono e rimangono lì tutto il giorno cioè la cosa fondamentale è che comunque il prodotto rimane fisso sul viso tutto il giorno e soprattutto non dia questo effetto di poi pasticciamento poi ultimamente, anzi vi parlo prima di questo qua che io uso sempre da tanto tempo poi quello nuovo questo qua è quello della Rimmel la Rimmel sappiamo tutte quante che è uno dei fondotinta cioè una delle marchi, ecco, insieme alla Max Factor più vecchi in assoluto quindi i loro prodotti sono sempre eccezionali questo è il mio questo dovrebbe essere il numero 8130 ed è anche lui un colore sì, medio comunque non tanto scuro poi come il fondotinta invece nuovo che sto usando da un po' di tempo questo Mineralissimi della Bioteco allora, questo qua della Bioteco è il numero non è, no, non c'è il numero c'è scritto solo beige color beige ed è mineralissimi allora, questo è un buon fondotinta minerale in polvere libera io mi trovo molto bene infatti all'inizio quando l'ho provato pensavo che fosse come quello della Jaffra invece poi mi sono dovuta ricredere perché appunto rimane comunque lì copre ovviamente oltre ai fondotinta minerale potete trovare anche i correttori minerali i correttori minerali sono buoni quando usate il fondotinta minerale perché così se voi usate il correttore in crema dovete usarlo sotto puoi mettere il fondotinta minerale perché altrimenti non si riesce bene a semperare il prodotto se invece usate il fondotinta minerale potete usare anche il correttore minerale in polvere che vi aiuta tanto perché vi dico io lo sto usando da pochissimo tempo prima usavo sempre quello là in crema perché anche lui non solo è modulabile ma si sfuma benissimo con il pennello quindi diciamo non dà neanche l'effetto anzi fa un effetto molto più naturale rispetto a quello in crema ovviamente poi dipende sempre voi i problemi che comunque avete nel senso macchie, brufoli ovviamente diciamo c'è possibilità di coprirli diciamo più o meno bene cos'altro dirvi vi ho detto sì già che sono modulabili quindi hanno danno la possibilità appunto di un'ottima coprenza allora ragazzi questa è la prima parte del video io lo divido in tre parti perché? perché così ora parliamo di fondotinta minerale in un video successivo parlerò di quelli liquidi perché non è detto che se avete la pelle grassa non potete usare quelli fluidi perché io comunque ho usato anzi sto usando alcuni prodotti effetto matte che sono buoni mi piacciono tantissimo e poi ovviamente parleremo quelli lime mousse che sono anzi danno un effetto porcellano molto di più di tutti questi però bisogna fare attenzione un po' alla composizione per chi ha una pelle grassa ovviamente quindi ragazzi vi mando un bacio ci siamo tenuti un po' di compagnia come al solito mi fa piacere sempre stare con voi vi lascio ovviamente i link dei prodotti dove potete trovarli i miei i link dei miei social dove mi potete continuare a fare domande richieste di video e tutto quanto vi mando un bacione alla prossima ciao ciao